Cari amici, bentornati al Consueto Spazio con le grandi interviste, oggi con Paolo Ruggeri, grande Paolo. Buongiorno, buongiorno, grazie Luca. Sono molto contento di essere qui con Paolo perché Paolo si occupa di imprenditoria, di imprese e siamo qua oggi per la Business School della OSM, l'Open Source Management, che è l'azienda che Paolo ha fondato insieme ad alcuni soci, per aiutare le piccole e le medie imprese a prosperare. Giusto Paolo? Certo, noi facciamo proprio questo, aiutiamo le piccole e le medie imprese, gli imprenditori ad andare meglio e quindi siamo un gruppo di imprenditori che condivide le loro azioni vincenti e quindi spiega che cosa hanno fatto per crescere, facciamo delle ricorse, delle riunioni e ci piace vedere le imprese che vanno bene. È molto bello questo contesto, io sono molto contento di intervistare Paolo anche perché io sto usufruendo, diciamo, di questi servizi, Paolo mi sta aiutando tanto e sto imparando tantissime cose, quindi vorrei condividere alcune delle cose che io sto imparando qui anche con voi. Partiamo, oggi parliamo di leadership. Paolo, intanto Paolo, tu hai scritto anche il libro di nuovi condottieri, bellissimo, tutti i libri di Paolo devo dire meritano un sacco, questo è proprio quello specifico che parla di un manuale sulla leadership per i manager del terzo millennio. Dici un attimo Paolo, cosa significa per te essere leader? Beh, essere leader secondo me significa farsi carico dei problemi degli altri. Un leader è un individuo che nota che c'è un bisogno nella società, ha un bisogno che hanno un gruppo di persone e dice io vi aiuto a risolvere quel bisogno. Nel caso dell'impresa l'imprenditore non dovrebbe solamente puntare a fare il profitto personale, oppure il profitto è importante, ma dovrebbe portare le sue persone al successo. Quindi io devo raggiungere il successo aiutando le mie persone a raggiungere loro. Se loro hanno successo, anch'io ce l'ho. Quindi vedi, prendi Elon Musk, Elon Musk decide che noi dobbiamo avere le auto elettriche, ma non solo per un discorso di guadagno personale, perché lui vuole che ci sia un mondo migliore. E quindi si fa carico lui dei problemi. Quindi diventare leader vuol dire notare che c'è un problema nella società e farsene carico. Tu per esempio ti sei fatto carico del marketing degli psicologi. È una cosa che loro non tenevano in considerazione e effettivamente in modo gratuito anche. Spesso c'è un etos importante, tu li aiuti ad avere successo. Questa è una cosa fantastica, no? Nel momento in cui ti fai carico di una necessità altrui diventi leader. C'è una componente vocazionale in questo? Beh, sicuramente io penso che tutti quanti noi abbiamo una chiamata. Abbiamo qualcosa che dobbiamo svolgere, che dobbiamo portare avanti. Un altro grande dibattito che c'è è leader, si nasce o si diventa. Sicuramente io credo nel DNA e credo che un 30% o un 35% delle nostre capacità vengono dal DNA. Quindi noi a volte siamo simili ai nostri genitori. Ora, poi però, molte caratteristiche possono essere sviluppate. Io per esempio ero molto timido, ero introverso. Vedi, io penso che si sviluppano andando a corsi, come quelli che facciamo noi, come quelli che tieni tu, come quelli che fanno altri. Ma poi, nella mia esperienza, i leader erano persone ordinarie per tutta la loro vita, fino a che non è accaduto qualcosa. Non si sono reso conti che c'era un contributo importante che dovevano dare al mondo loro e si sono assunti la responsabilità. E quando accetti il mantello della leadership e decidi questa cosa me la devo occupare io, da lì in poi, in modo automatico, sviluppi le caratteristiche per diventare leader. E quindi, sì, c'è una componente vocazionale. Io sono convinto che ognuno di noi ha delle caratteristiche uniche per svolgere un determinato tipo di lavoro. E un po', lasciami passare questa cosa un po' poco scientifica, ma più, diciamo, fantasiosa. Ecco, uno deve trovare questa cosa e quando la trova, lì diventa leader. Questa, l'idea della chiamata è interessante, no? Cioè, tu credi che la chiamata arriva quando arriva o possiamo fare qualcosa per sollecitare? Guarda, sicuramente dobbiamo essere produttivi. La società ci forza ad essere produttivi. Cioè, se sei un venitore, devi cercare di vendere, devi fare dei contratti, devi andare a visitare clienti. Poi, però, alcune cose ti accendono, ti appassionano e ti senti, vedi, tu hai i video. Probabilmente a un certo momento quella cosa ti piaceva. Sì, sì, ho perso la testa. Esatto, e quindi, ecco, a volte noi ci prostituiamo per del denaro e va anche bene tutto sommato farlo, ma ci dimentichiamo delle cose che ci fanno perdere la testa. Tutti noi abbiamo un qualche tipo di argomento che ci fa perdere la testa e dobbiamo forse dedicarci anche lì. Tu sei un grande leader, hai creato una… beh, insomma, adesso, lo posso dire io, tu non puoi dirlo, ma io lo posso dire. Tra l'altro hai fatto un TED Talk molto bello, andatelo a vedere, TEDx. Dov'è che l'hai fatto a… A Starazagora, in Bulgaria. Esatto, bellissimo, andatelo a vedere. Per arrivare qui, dove sei, hai dovuto affrontare, immagino, una serie di sfide. Quali le sfide più importanti che tu come leader hai dovuto affrontare? Guarda, allora, vabbè, una sfida importante è sicuramente l'essere produttivi. Cioè, il poter riuscire a creare le risorse economiche per portare avanti la tua chiamata. E quindi quella è una prima sfida, che è dove puoi andare da tanti esperti, consulenti, formatori, scuole. Puoi leggere dei libri o puoi andare a guardare i video su YouTube. C'è anche un modo molto gratuito. Devi imparare a essere produttivo e a incassare del denaro. Cioè, a far sì che arrivi il denaro. Questa è la prima sfida. E quindi un po' di capacità di vendita o di marketing devi svilupparla. Poi le sfide per me sono state tre. La solitudine, il tradimento e il successo. Cioè, la solitudine perché? Perché tu nel momento in cui inizi ad essere un leader di un gruppo di persone, finisci che sei solo. Ma perché? Cioè, la dicono in tanti, ma perché c'è... Perché, vedi, io non posso, di fronte a un problema, io non posso andare dal mio stato maggiore a dire ragazzi, io ho questo problema e sono veramente preoccupato. Perché in quel momento si demotivano tutti. E quindi tu vivi il tuo problema. Cioè, è ovvio che chiedi l'aiuto delle persone e a volte le coinvolgi. Ma a volte ti trovi a dover prendere delle decisioni importanti e sei da solo. E quindi la solitudine è una cosa con cui devi imparare anche a stare bene. Cioè, tra l'altro non è nemmeno brutta. Un individuo, io dico che... Ma lo dici tu, penso di averlo visto in un tuo video, che se non sta bene con se stesso è difficile che riesca a stare bene con gli altri. Quindi spesso agisci in solitudine. O a volte o a volte, non spesso. Perché devi invece coinvolgere le persone. Il tradimento, io l'ho vissuto male. Noi siamo una società di servizi, quindi ci capitava che spesso costruivamo l'azienda e poi a volte qualcuno diceva, ma sai, se io fado a farlo da solo, guadagno di più, no? E io all'inizio ci rimanevo male. Perché pensavo il tradimento, la persona, vedi, sono andati via. In grato. In grato. E invece, vedi, chi prova rancore non genera valore. Devi imparare di nuovo ad amare le persone. E dire, vabbè, dai, è andato. Anzi, gli voglio anche bene, ha fatto la sua strada. Comunque porterà avanti qualcosa dei concetti che abbiamo inventato noi. Questo passaggio è stato un clic importante per me. Tra l'altro ho imparato che a volte bisogna anche fare di nuovo affari con quelli che sono andati via, ritornare, cioè, è sbagliato. Magari in esilio. Sì, perché se no diventi un manipolatore, diventi una setta. Cioè tutti quelli che non sono d'accordo con me sono cattivi. E noi invece dobbiamo accettare il disaccordo. E a volte dobbiamo accettare anche il punto di vista differente. Io prima ero settario. Poi ho capito che in un certo momento, sì, è vero, io posso sapere tante cose, ma in realtà so poco o niente. Cioè, ci sono ancora tante cose che devo capire. E il confronto e il disaccordo a volte aiuta. E anche chi ha dei punti di vista differenti. La terza cosa è il successo. Ed è una sfida importante. Io come l'ho vissuta? Un giorno nella mia vita mi sono accorto che le persone mi dicevano quello che volevo sentirmi dire. E non mi dicevano più quello che pensavano davvero. Proprio perché avevo successo mi dicevano, no, io sono d'accordo con te. E io a un certo punto ho iniziato anche a crederlo. Ma non voglio dire che devi essere cinico. Cioè, hai iniziato a credere, sì, sono tutti positivi, belli. E invece non era così. Non dico che devi essere cinico. Però devi sapere che proprio perché sei in una posizione di successo, le persone con te... Sono condiscendenti. Sì. E quindi ti dicono, sì, tu sei molto bravo. E poi però quando tu hai... Tu devi capire che non è in questo modo. O perlomeno, non è sempre in questo modo. Che cosa non è sempre in questo modo? Che le persone sono con te al 100%. Cioè, si mostrano ma non è detto che lo siano. Non è detto che lo siano sempre. Io per esempio uso... Mi faccio questa domanda. Se io non avessi più un soldo e l'azienda andasse veramente male, chi è che di queste persone continuerebbe ad aiutarmi? Per me questo è un'argomentazione importante. E devi saper riconoscere le persone che hanno sposato i valori da quelle che sono lì per un lavoro, una produttività. Contano anche quelle che sono lì per un lavoro, perché danno una grande mano. Però è importante riconoscerle. È importante non cadere nella vanità di pensare che tu sei bravo, sei forte e che tutti, quindi, adesso ti vogliono bene. Invece no. A volte le nostre realtà, le nostre imprese sono instabili. Possono un giorno scomparire. Può tornare tutto indietro. Le persone ti trattano meglio di quello che pensano davvero. E a volte proprio perché sei un leader, ti dicono che sei bravo, che sei forte, che apprezzano tutto. Tu devi quindi non prendere tutto per oro colato e comunque comportarti bene con loro. E anche sapere che alcune di quelle persone... C'è un libro poi di psicoterapia, secondo me molto interessante, in questi fenomeni dei leader. Se incontri il Buddha per la strada, uccidilo. E questo libro me l'ha dato una persona che tu conosci molto bene. Adesso non la menziono, però... Un giorno a Milano stavo a casa sua e mi ha detto devi leggere questo libro. E questo libro mi ha aiutato molto perché ha fatto capire che a volte le persone si esaltano stando con noi, si caricano, però a volte cercano in noi o nel leader, nel capo, la soluzione dei problemi. E a volte per questo si innamorano follemente. Però non in un modo logico, in un modo esagerato. E le stesse persone che poi si innamorano e quando l'amore finisce ti odiano. E quindi l'individuo deve ottenere questo equilibrio di giudicare il leader in modo oggettivo. Allora è veramente guarito. Se si può chiamare guarito. E quindi io quando mi dicono no, tu sei bravo, sei forte, io sempre dico no, 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 guarda, fermo, non è vero. Tu vedi una riflessione di te stesso. E tu sei così, non sono io. Anche per esempio dopo, quelli che si innamorano, dopo so che dopo mi faranno causa. Quindi... Esatto, devo stare attento. Senti, leadership al femminile. Quali ostacoli per le donne che vogliono essere riconosciuti nella loro leadership oggi? Allora... E' uno stesso... Il percorso è uguale secondo te? Sì. Allora, o è, diciamo, simile ma incontrano delle difficoltà. Partiamo con una cosa importante. Leadership al femminile. Nella mia azienda la maggior parte degli operations manager sono donne. Una volta erano uomini. Cioè, se io torno indietro 25 anni fa o 20 anni fa tutte le persone nella mia azienda che erano quelle che gestivano la produzione erano tutte le operations cioè quindi organizzano i corsi gestiscono gruppi di consulenti gestiscono filiali erano tutti uomini. Oggi sono tutte donne ma non è perché io ho scelto delle donne ma perché l'evoluzione della società va in quella direzione. le aziende che vogliono andare bene oggi devono avere delle donne nelle posizioni di comando ma non è un discorso di quote rosa. È il discorso che siccome la società va più verso l'esperienza le relazioni le emozioni sono loro che sanno fare questa roba qua e quindi io penso che anche nelle aziende di trasporti servano delle donne manager nelle aziende edilizie servono delle donne manager quando io vedo un'azienda che ha solo degli uomini all'interno del suo stato maggiore so che è un'azienda che soffre o che avrà una serie di problemi quindi però questo lo sappiamo io e te lo sanno alcuni imprenditori illuminati che quindi creano spazio e molti invece non se ne rendono conto quindi la donna a volte incontra delle difficoltà perché casomai ha degli ostacoli nella crescita ma anche faccio un esempio alcuni miei operations managers sono madri quindi a un certo punto mi dicono senti io devo andare via perché la terapia mi figlia all'asilo e nel mentre c'è una crisi ma non è un problema queste persone sono molto più efficaci quindi secondo me una donna deve trovare un'azienda che è basata su dei valori un leader che è basato su dei su dei principi intangibili che a sua volta ha una buona visione delle persone e allora lì fa strada non deve diventare un uomo e io sono convinto che le aziende c'è questo rischio che diventa un uomo diventa cattiva perda la sua unicità da questo punto di vista a volte può succedere io vedo con piacere sempre di più che è un dato di fatto le aziende che vanno bene alla cima non dico l'amministratore delegato però a volte anche l'amministratore delegato nello stato maggiore esiste una forte componente femminile che non è fatta lo ripeto per le quote rosa che sono una sminuire la donna invece no le donne è fondamentale non ha bisogno di quote rosa per essere preservata già dentro di sé è tutto quello che serve per portare valore e vedi tante cose del mondo del lavoro sono sono organizzate ancora per un mondo del lavoro che non esiste più io cerco una persona se una è mamma e deve andare a prendere il figlio alle 3 del pomeriggio penso che non è buono dovrebbe lavorare 10 ore invece no è bello perché poi comunque il lavoro lo puoi fare in ogni momento e oggi il vero lavoro è quello emozionale relazionale e ha bisogno di persone forti su quello ecco i nuovi condottieri no? prima parlavamo allora il leader del futuro quali nuove caratteristiche deve secondo te come tu lo immagini quali nuove caratteristiche deve sviluppare? il leader alcune caratteristiche sono sempre state in questo modo però ragioniamo una cosa le giovani generazioni i millennials le generazioni successive cercano valore non cercano più valore la gente secondo me si è rotta le balle di fatturare io devo andare in azienda e farle fatturare fargli guadagnare soldi ma la gente si è rotta le balle la gente cerca significato e quindi il leader del futuro deve essere bravo negli aspetti tangibili quindi far fatturare ottenere risultati ma poi deve lottare anche per dei valori e deve avere delle cose in cui lui crede soprattutto le giovani generazioni non vanno a lavorare per aziende che fanno solo numeri o si forse ci vanno anche ma per lo stipendio ma la loro passione la dedicano da altre parti quindi il leader del futuro deve un po' come fai tu per seguire una missione sia tangibile concreta di dare un risultato ma sia chiamiamola di diffusione della conoscenza di miglioramento di uno stato della società cioè non abbiamo più bisogno di imprese che facciano utili abbiamo bisogno di imprese che facciano utili ma che creino valore per la società e queste sono le imprese che vanno bene se adesso noi le possiamo anche criticare perché sono imprese giganti Facebook Google Amazon però vedi dall'altra parte Google mette a disposizione tantissime cose gratuitamente che aiutano gli individui Amazon fa lo stesso permette a me che sono uno sconosciuto di vendere i miei libri negli Stati Uniti d'America ecco il leader del futuro è qualcuno che dà alla società non solo prende dovessimo pensare un percorso di 3-5 libri di libroterapia di libro formazione diciamo di 3-5 libri per sviluppare una mentalità da leader delle competenze da leader come lo costruiresti? allora io partirei da il libro che più mi ha aiutato per sviluppare la leadership è le 7 regole del successo di Stephen Curry le prime 3 regole le avrò lette 10-15 volte le altre le ho lette 2-3 volte ma mi sono state utilissime quello è un libro che dà che trasferisce l'importanza spirituale del leader poi in ambito aziendale alla ricerca dell'eccellenza di Tom Peters e Robert Waterman è un libro di management che è stato più venduto al mondo e che parla delle imprese americane che negli anni 80 hanno avuto grande successo però in questo libro sono incluse delle cose sulla gestione aziendale sulla gestione delle persone profondamente importanti è un libro che è assolutamente uno dei libri che più mi ha formato è ancora attuale è ancora attuale anche se parla di imprese che a volte non ci sono nemmeno più quindi 30 anni fa 40 anni fa ma i sette principi che Tom Peters elenca sono fondamentali è affascinante è un altro libro è un libro molto antiquato è ancora molto antico però a me ha aiutato molto Think and Grow Rich di Leon Hill e io devo dirvi che in quel libro la cosa importante che ho capito è che dovevi cambiare la tua personalità e che devi sviluppare una personalità di successo è un libro chiaramente che è datato però a me ha aiutato c'è poi un libro di uno psichiatra ebreo In Search of a Meaning di Viktor Frankl cioè la ricerca del significato è fantastico quel libro perché? perché Viktor Frankl dice che in tutte le grandi disgrazie che ti capitano c'è un significato più profondo che devi scoprire cioè per me è fantastico è come e quindi dobbiamo capire anche il significato di quello che succede il quinto libro che io direi è il libro che dovrai scrivere tu cioè tu a un certo momento devi scrivere un libro perché vedi nonostante tu impari tu dentro di te hai delle cose che dovrai mettere in ordine e devi scrivere io lo consiglio davvero a tutti a un certo momento devi scrivere un libro della tua vita è quello perché il tuo percorso quello che tu hai capito è quello per me non devi solo prendere da altri tu hai tanto che puoi dare lo aspettiamo allora aspettiamo anche il tuo libro noi dobbiamo recensirlo io sto aspettando il tuo libro per sapere cosa fare perché comunque sono solo e difficile esattamente esattamente Paolo mi sembra che insomma abbiamo detto un sacco di cose interessanti sulla leadership e quindi grazie per questa chiacchierata e noi poi insomma magari faremo altre puntate vediamo va bene quello che serve adesso ci vediamo io ti ringrazio molto per questa discussione va bene ciao grazie alla prossima ciao